Ciao a tutti e bentornati al nostro consiglio appuntamento con In2TheMind. Oggi vi vorrei parlare di un argomento che apparentemente può sembrare contrastare con il mondo dello sport, che è quello del riposo. Il riposo in ambito sportivo è qualche cosa di estremamente fondamentale perché garantisce la possibilità di recupero dallo sforzo fisico fatto durante l'allenamento o una gara. Riposare quindi è fondamentale e va fatto anche nel modo migliore. Riposarsi garantisce anche di non cadere in quei fenomeni come l'overtraining. L'overtraining è quel meccanismo per cui un atleta si sovralena pensando che allenandosi tanto e insistendo molto con l'allenamento, questo porterà dei benefici a livello di prestazione. Ma non è così. Il nostro corpo ha sempre bisogno di un adeguato periodo di recupero e nel recupero sicuramente ci sta dentro la corretta alimentazione, ci sta dentro un recupero a livello mentale, quindi risorse cognitive che devono essere ripristinate affinché nel successivo allenamento o nella successiva competizione l'atleta possa disporre dell'energia proprio mentale sufficiente per affrontare e gestire le pressioni derivanti dalla situazione performante o agonistica. Altro elemento importantissimo è poi il sonno. L'igiene del sonno è fondamentale per un atleta che deve garantirla sicuramente in maniera particolare prima di una competizione, ma anche nella propria quotidianità. L'igiene del sonno significa avere una routine adeguata e ben consolidata che precede il momento dell'addormentamento. Quindi a livello proprio molto molto pratico via i telefoni, gli smartphone e i computer entro un'ora prima di andare a dormire. Questo perché? Perché la luce blu rilasciata dagli smartphone o dai computer ci attiva e quindi diventa molto difficile poi riuscire ad addormentarsi. È importante poi trovare una routine che permetta gradualmente di avvicinarsi al momento del riposo dell'addormentamento. Quindi oltre a editare la luce blu, anche attività particolarmente attivanti come può essere un videogame o altre situazioni che ci attivano in maniera importante vanno evitate prima dell'addormentamento. Poi nella camera da letto si dorme, quindi è importante associare l'ambiente della camera da letto unicamente col riposo. Quindi al massimo si può leggere un libro, al massimo si possono fare delle tecniche di rilassamento prima di addormentarsi, ma certamente dal letto non è utile consultare il telefono, che come abbiamo già detto un'ora prima dell'addormentamento va riposto per via di quella famosa fastidiosa luce blu, così come chiacchierare al telefono con un amico. No, la stanza da letto è un luogo dove ci si addormenta, dove ci si rilassa e dove si lasciano andare tutte le varie tensioni. Dicevamo, le tecniche di rilassamento possono essere un utile strumento per lasciarsi andare al sonno, all'addormentamento, quindi può essere utile poco prima di addormentarsi fare dei piccoli esercizi di rilassamento con un'adeguata respirazione addominale, proprio per auto accompagnarci verso il riposo. Attenzione anche a non assumere cibi molto calorici prima di andare a dormire, perché questo comporta un picco glicenico che è proprio nemico dell'addormentamento. Ecco, costruire una buona routine pre-sonno garantirà all'atleta una buona qualità del riposo e buona qualità del riposo significa ripristino delle energie fisiche e mentali che sono necessarie e fondamentali per affrontare una giornata di allenamento e, ancora di più, una giornata di gara. Buon riposo a tutti, buon recupero a tutti e ci vediamo alla prossima.